Il fallimento della candidatura della Presidente del Senato. La terna del centrodestra bruciata. Il tentativo con Conte Perbelloni. E un partito che ora lo chiama Matteo Bersani. Dennis Verdini voleva ritagliare per lui il ruolo del kingmaker. Ovvero di colui che avrebbe guidato il centrodestra nella scelta di un Presidente della Repubblica finalmente affine a quell'area politico-culturale. Ma, scrive oggi fatto, nei capannelli leghisti che compulsano le giravolte del Capitano lo hanno soprannominato, Matteo Bersani, con un chiaro riferimento alla querel del 2013 che ha portato alla fine al bis di Napolitano e alle dimissioni dell'allora segretario del Partito Democratico. E mentre un altro bis, quello di Sergio Mattarella, si staglia all'orizzonte, Matteo Salvini si gioca tutto oggi. Meglio ancora, stamattina, quando nella riunione di maggioranza che ha richiesto dopo aver ottenuto l'appoggio di Giuseppe Conte proporrà il nome di Elisabetta Belloni per il Quirinale. I retroscena dei giornali oggi raccontano di un partito sconcertato dalle mosse del suo segretario. Che va a parlare con Draghi, poi vede l'Eppe di Maio, infine litiga con Tajani e rischia di rompere il centrodestra. E fa tutto questo in prima persona e da solo, senza farsi affiancare da governatori e numeri due. Sembra tornato quello del papete, sussurrano i suoi Secondo Repubblica. E se ne capisce perfettamente il motivo, pur baciato da fortune elettorali, in questi anni Salvini non ha azzeccato molte mosse politiche. Ha perso la leadership dell'opposizione e i primi posti nei sondaggi a favore di Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni. In cambio, con la partecipazione al governo Draghi, voleva ottenere una legittimazione politica. Ma il disastro sulla candidatura di Casellati pesa.